Una parte del tifo Juventino comincia a essere preoccupante. Prima non voleva Allegri nonostante tutto quello che ha vinto e adesso trovano inadeguato Sarri. Non credo sia un problema di tuta o di cattive parole, c'è qualcosa di più. La diversità del tifoso Juventino è che non ha una radice geografica, un luogo in cui nasce e si riconosce. Per esempio, io tifo fiudentina perché sono nato a Firenze. Per molti il tifo è un segnale intimo di appartenenza naturale. Lo Juventino non è così, è un frutto esclusivo delle vittorie e delle storie successive che i lavoratori raccontavano a casa nei loro ritorni di emigranti. Vincere per la Juve non è stato così solo un modello, è sempre stata una necessità per esistere. Con Sarri la gente invece si ritrova ora guidata da un avversario che aveva già cancellato. L'avversario battuto non esiste più, è una fatica compiuta. Sarri invece viene e domina. Forse è una sciocchezza, ma la reazione è quasi comprensibile.